GioiaSport.com il blog con tutto lo sport della tua città bene quindi ha già venuto due partite e adesso vediamo cosa succede nella finale speriamo bene. Diciamo che ha spezzato anche quel fattore psicologico che subentra subito dopo un intervento chirurgico. In effetti la cosa più difficile da superare è l'aspetto mentale perché ancora ha un po' paura negli spostamenti però già nella prima partita che è stata molto lottata e dura si è spostata abbastanza bene quindi ha buttato via la paura iniziale che c'era sicuramente. Diciamo come ci racconti un po' la storia della sua assistita come è arrivata presso la sua diciamo maestria? Ci siamo incontrati in un torneo ci siamo incontrati in un torneo a Rovereto un 15 mila dollari un internazionale lei veniva da un periodo molto brutto era con la mamma e ha chiesto di allenarsi con la mia assistita di quel tempo e ci siamo conosciuti così poi piano piano mi ha chiesto delle informazioni è venuta nella mia accademia Iesi per due settimane di prova e non è più andata via.